Benvenuti a LingoTree, la serie online parliamo inglese. Nell'episodio di oggi, impareremo gli aggettivi possessivi. Gli aggettivi possessivi, sono utilizzati per indicare la proprietà o il possesso di qualcosa. Descrivono la relazione tra un sostantivo e la persona o la cosa che lo possiede. Gli aggettivi possessivi inglesi sono Come avrai notato, l'aggettivo possessivo, suo, cambia in base al genere, maschile o femminile. Ora esploriamo alcune frasi utilizzando questi aggettivi possessivi. Fortunatamente, in inglese, ad esempio. A differenza dell'italiano, gli aggettivi possessivi rimangono invariati indipendentemente dal genere, maschile o femminile, e dal numero, singolare o plurale, del sostantivo. Solo le desinenze dei sostantivi cambiano per riflettere la pluralità. Iniziamo con i sostantivi singolari. Esempio. Il mio libro. Applica semplicemente l'aggettivo possessivo scelto seguito dal sostantivo. Esempi. My book. Your book. His book. Her book. Our book. Your book. Their book. Facile, vero? Un altro esempio. La mia penna. Ora, osserviamo come gli aggettivi possessivi vengono utilizzati con sostantivi plurali. Di nuovo, l'aggettivo possessivo rimane invariato, mentre solo i sostantivi passano alla forma plurale. Utilizzando gli stessi esempi di prima, consideriamo, i miei libri. Applica l'aggettivo possessivo seguito dal sostantivo nella sua forma plurale. Esempi. My books. Your books. His books. Her books. Our books. Your books. Their books. Un altro esempio. Le mie penne. My pens. Your pens. His pens. Her pens. Our pens. Your pens. Their pens. Their pens. Ora, tocca a te. Completa le frasi inserendo gli aggettivi possessivi corretti. Dov'è la mia penna? Where is my pen? Dammi il tuo libro. Give me your book. Ho visto la sua macchina. I saw his car. A me piace il suo vestito. I like her dress. Questo è il nostro cane. This is our dog. A me piace la tua famiglia. I like your family. Sono andato a casa loro. I went to their house. Ben fatto. Ora ci piacerebbe se provaste a scrivere alcune frasi in inglese, qui sotto nella zona commenti utilizzando gli aggettivi possessivi. Congratulazioni. Spero di rivederti nel nostro prossimo episodio. Non dimenticare di iscriverti e mettere mi piace. Grazie. A presto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.